Erano chiamati i diavoli rossi per via delle mostrine, da Eurot e Taufel, quei maledetti italiani di razza strana, quei maledetti sardi, scuri, piccoli, cattivi, senza alcuna pietà. Non facevano prigionieri, non indietreggiavano, assaltando le truppe della maestà imperiali d'Austria e Ungheria e di Germania senza paura, con selvaggia violenza, vero incubo degli imperiali. Ora, la storia leggendare della Brigata Sassari è presente nella storiografia italiana da decenni come motivo di orgoglio nazionale e regionale. L'intenzione di questo video, chiaramente, non vuole essere un richiamo al fanatismo che, tra l'altro, non avrebbe neanche senso, visto che ci troviamo davanti a degli uomini, umili lavoratori, padri di famiglia, mariti, fratelli, che erano costretti ad uccidere altri uomini proprio come loro. Tuttavia, deve essere ben chiaro il fatto che per svariati motivi che vanno dall'amor di patria alla paura per le conseguenze di un'invasione nemica, per il senso del dovere o per la semplice disciplina imposta durante questo conflitto, si verificarono numerosi atti di eroismo da una parte e dall'altra ed è giusto che siano raccontati e ricordati. E per questo noi oggi vogliamo raccontarvi di una brigata che ha fatto dell'eroismo il suo pane quotidiano. Composta dal 151esimo e 152esimo reggimento di fanteria, la Brigata Sassari fu l'unica del regio esercito a meritarsi ben quattro medaglie d'oro alla bandiera, due per ciascun reggimento. Ma ora partiamo dall'inizio. Cerchiamo di capire perché questa brigata è così famosa. Poco dopo la nascita del Regno d'Italia, si decise di far affluire nei vari reggimenti dell'esercito uomini provenienti da tutta la penisola, abbandonando quindi il criterio di regionalità. Questa scelta venne fatta con i scopi di favorire in primis la coesione nazionale, ma anche per far sì che si sviluppasse la lingua italiana che i soldati, per forza di cose, erano costretti a parlare. Quindi i reggimenti all'inizio del conflitto erano più o meno misti, fatta eccezione per gli alpini, che venivano reclutati prevalentemente dalle regioni del nord Italia, e per la Brigata Sassari, che era composta quasi esclusivamente da sardi. Emilio Lussu, nei suoi libri, parlava di una brigata tutta di corregionali, composta al 95% di pastori e contadini. Ora noi sappiamo, consultando i dati che riguardano i caduti dei due reggimenti, che i sardi in realtà non costituivano proprio la totalità dell'organico della brigata, come spesso si crede. Conti alla mano erano circa l'80%, che rimane comunque un numero notevole. Ma quindi perché proprio i sardi? Beh, i comandanti italiani si accostero che quel popolo era, come dire, diverso dagli altri. Sarà per il forte spirito di coesione che univa quelle genti, e per il fatto di dover saper vivere in competizione con una natura avversa, piuttosto che con il proprio vicino. O sarà ancora per la tendenza di Lisonano a primeggiare, a mettersi in competizione con gli altri, espresso nel concetto tutto sardo della valentia, che esprime appunto il valore dell'uomo. Insomma, tutti elementi che fecero capire che di quegli uomini ci si poteva fidare. E oltre a questi fattori, per così dire spirituali, si notò che quelle genti avevano una particolare attitudine al combattimento, specialmente per quello corpo a corpo. In quei frangenti di morte usavano più il loro coltello, saleppa, che il moschetto. Non seguivano le leggi della guerra, quei maledetti, pronti a sgozzare, scannare anche i fedeli e duri soldati bosniaci dell'Aquila Bicipite, gente a vezza, a qualsiasi sorte. Eh già, perché fu proprio nel bosniaco che il soldato sardo trovò il suo nemico naturale. Anche essi erano conosciuti come gente di grande valore e temuti per la loro spietatezza. Da molti racconti emerge che quando ci si trovava di fronte ai bosniaci, beh, la faccenda si faceva dura. Si dice addirittura, pensate, che anche i soldati imperiali di altre nazionalità indossassero il fez, tipico dei bosniaci, per incutere timore agli italiani. E fu proprio per questo che spesso e volentieri, dove gli imperiali schieravano i fieri soldati della Bosnia, i comandi italiani proponevano davanti a loro i sassarini. La cosa che li accomunava era il coraggio senza pari e, come dicevamo prima, le abilità nel combattimento corpo a corpo, entrambi, tra l'altro, particolarmente con il coltello. Quindi i combattimenti spesso si risolvevano così, con pugnali tipici delle due regioni come protagonisti. Saleppa contro l'anzar in una violenta e sanguinosa mischia che non vedeva prigionieri. La più grande differenza che divideva gli uni dagli altri, invece, era la fisicità. I bosniaci erano delle vere e proprie montagne con una corporatura robusta e una statura che raggiungeva e spesso superava il metro e novanta. I sardi, invece, erano notoriamente molto bassi anche rispetto ai loro compaesani di altre regioni. Questo però evidentemente non andava a condizionare il risultato delle battaglie che più delle volte volgeva proprio in favore degli isolani. Pensate che il servizio informazione austriaco emana una pubblicazione per gli ufficiali sulla validità delle varie brigate italiane. Questo piccolo manuale venne realizzato per dare un'idea ai graduati su ciò che li aspettava. Si possono, a seconda del reparto, trovare giudizi positivi come buona brigata o brigata molto buona, a giudizi decisamente più negativi come brigata di valore mediocre, brigata non energica e poco intraprendente, pessima brigata o brigata con molti disertori. La Sassari, invece, si meritò il miglior giudizio in assoluto. È considerata una delle migliori brigate che più volte si distense nelle battaglie sul Carso, ma fallì negli attacchi sull'altopiano di Asiago nel giugno 1917. Ecco, tuttavia qua occorre fare delle precisazioni su quegli attacchi della primavera del 1917. Difatti, la Sassari in quei giorni si trovava a fronteggiare le munitissime trincee austriache di Monte Zebio. Purtroppo, però, poco prima dell'attacco del 10 giugno, le batterie italiane da 149 e 152 che avrebbero dovuto colpire le postazioni austriache, a causa dell'estrema vicinanza tra le linee e a seguito di errori di calcolo sul puntamento degli obici, accorciarono il tiro e così le granate caddero addosso ai poveri fanti che si trovavano allo scoperto. Fu un vero macello, si cercò di contattare i comandi per far allungare il tiro, ma quando si accorsero dell'errore era ormai troppo tardi. La brigata, infine, in poche ore perse circa 500 uomini e senza che gli austriaci sparassero un solo colpo. La negativa sorte dell'attacco, insomma, era già decisa prima che esso iniziasse. Tuttavia, i nostri valorosi fanti si lanciarono contro le postazioni avversarie uccidendone i difensori e impossessandosene. Purtroppo, però, a causa delle gravi perdite accumulate prima e dopo l'attacco e nonostante la tenacia granitica dimostrata nel mantenere le posizioni, a seguito di furiosi attacchi lanciati dal nemico, la sera la brigata fu costretta a ritirarsi. Comunque, la brigata Sassari fin dai primi giorni di guerra si era fatta riconoscere valere. Numerose furono le citazioni su bollettini ufficiali e le medaglie al valore individuali. Ma è soprattutto la stampa nazionale a marcare fortemente sin dai primi mesi di guerra la narrazione delle imprese della brigata Sassari contribuendo in modo decisivo a delinearne il mito. L'immagine proposta da questa riduzione giornalistica è in genere quella dei sardi forti figli d'Italia soldati fedeli e silenziosi tenaci combattenti pronti a coprirsi di gloria. La prima attenzione della stampa non sarda per la brigata coincide con la pubblicazione del bollettino ufficiale immediatamente successivo alla conquista delle trincee delle frasche e dei razzi nel novembre del 1915 e proprio in quel frangente i fanti della Sassari conquistarono le suddette posizioni con un'azione a sorpresa che ha dell'incredibile. Se volete approfondire un po' vi lasciamo il collegamento al video su quella battaglia fatto da noi. Questa azione venne poi raccontata in un libro e successivamente in un film dal figlio di colui che guidò questa impresa il maggiore Dessi e abbrigata a rimare sul fronte del cazzo fino a metà del 1916 per poi spostarsi su un altro piano di Asiavo. Tra il maggio e il giugno del 1916 imperversava sul fronte del Trentino la spedizione punitiva condotta dall'esercito austriaco. Il piano d'attacco ideato dal capo di stato maggiore Von Ozzendorf puntava a sfondare le difese dell'altopiano di Asiavo con una potenza di fuoco mai vista finora. Era necessario operare con uno slancio decisivo fino alle falde dell'altopiano per poi sfociare nella pianura veneta in cui le truppe imperiali avevano avuto la strada aperta fin chissà dove. La prima linea italiana venne travolta. Le divisioni austriache erano ormai un passo del loro obiettivo che avrebbe comportato una vera e propria catastrofe per il regno d'Italia. Tuttavia le seconde linee tenute da alcuni battaglioni di alpini resistettero fino all'inverosimile arginando per quanto si potesse l'avanzata austriaca. Le fedeli truppe alpine però ormai ridotte all'osso non potevano farcela da sole contro le sempre più numerose andate nemiche. Così vennero inviate prontamente dei rincalzi. C'era bisogno di truppe altrettanto forti e fedeli. E chi meglio della Sassari poteva assolvere questo delicato compito? Ed è proprio dei racconti di Emilio Lursu nel suo celebre libro Un anno sull'altopiano che in quel momento è messa una presa di coscienza diversa della guerra. Fin lì la brigata come abbiamo visto aveva dimostrato un valore straordinario anche se principalmente si trattava di una questione di orgoglio isolano più che di un sentimento patriottico. Ma salendo per raggiungere il fronte la strada della brigata si incrociò con quella di profughi dei sette comuni che abbandonate le loro case sentendo il nemico ormai alle porte si allontanavano verso la pianura. I contadini allontanati dalla loro terra erano come naufraghi. Nessuno piangeva ma i loro occhi guardavano assenti. Era il convoglio del dolore. La nostra colonna cessò i canti e si fece silenziosa. Lo spettacolo era nuovo per noi. Sul fronte del carcio eravamo noi gli invasori ed erano slavi i contadini che avevano abbandonato le case alla nostra avanzata. Quindi qui per la prima volta si trovarono davanti a un'immagine concreta della patria di quella patria ferita che ora si rivolge a loro quella patria che nei bollettini di Cadorna era sempre rimasto qualcosa di astratto ora invece assumeva un'altra forma. Nei giorni successivi la brigata Sassari e gli alpini aggrappati alle falde dell'alto piano riuscirono a reggere il poderoso urto austriaco che una volta che perdete di slancio si arrestò e da lì le truppe dell'impero dell'Aquila Bicipite si riterarono. Ancora una volta anche se per il rotto della cuffia la resistenza del fronte rimaneva salda. Tuttavia furono ancora molte le imprese che videro come protagonista questa eroica brigata. Fu impiegata ancora sull'alto piano di sette comuni poi su quello della Bensizza successivamente dopo Caporetto prese parte alla poderosa battaglia dei Tremonti in cui scrisse altre importanti pagine di storia culminando il proprio successo sfilando a Vicenza tra le acclamazioni della popolazione civile. Insomma sono ancora moltissime le storie su di essa che andrebbero raccontate noi ci siamo limitati a citarvene alcune cercando per quanto possibile di evidenziare anche le caratteristiche di queste forti genti di Sardegna. Tuttavia vi invitiamo se vi fa piacere a proporci qui sotto nei commenti qualche argomento qualche vicenda qualche storia che vi piacerebbe che affrontassimo su questo canale in un prossimo racconto. Quindi mettete like per farci vedere il vostro sostegno se i nostri video vi piacciono fateci sapere cosa ne pensate e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi racconti. A presto! Grazie a tutti!